Il mio futuro nella ceramica è ormai rivolto verso la tecnica che può dare emozioni visive diverse dalle ceramiche puramente assoggettate al segno e alla pennellata. I minesimi elementi non fanno andare oltre la rappresentazione figurativa. Avevo ormai intrapreso la via di produrre gres bianco ad alta temperatura portando a faenza la novità degli smalti con cristallizzazione. In questa città non si erano mai visti. Gli occhi si chiudono. Nuovamente il mistero mi avvolge. Abbandono il diogiano per mettermi sulla barca di Caronte sapendo del pericolo di attraversare il mare pieno di insidie tra il limbo e l'inferno. Così ho scoperto che alcuni lapilli della lava incandescente sprigionati dal vulcano, bocca dell'inferno, cadendo nel mare delle fredde acque turchesi cristallizzavano. Smalti vetrosi, colorati, vasi bruni affiorati dalla terra con striature di fluidi magnetici. La mia sensibilità poetica ricade come senso visivo sulle superfici delle mie opere, stimolando emozioni e sentimento. Ecco come mi allontanai dalla semiottica del segno e mi portai verso quella intuitiva colta del colore e delle superfici satinose. Le mie buone stelle mi colsero nel loro mistero, accorgendomi che Caronte era già stato pagato, ha ricevuto i danari dai vasi ricoperti dalla glassa vetrosa. Apro gli occhi, sono assalito da Crampi dentro allo stomaco, corro nel laboratorio a verificare se i vasi sono tutti al loro posto. ci sono tutti. Sì, ora posso andare in giardino a fumare una sigaretta. Gattone, vieni qui a prendere due carezze, salta sulle mie gambe, guarda il cielo come pieno di stelle. Grazie. 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 Grazie.